Con Marco Pollini di Aora Film che distribuisce il film Fisherman's Friends di Chris Foggin al cinema da giovedì 23 novembre 2023, ben trovato. Grazie, buongiorno a tutti. Cosa racconta questo lavoro? Fisherman's Friends è una storia vera, è successa in Inghilterra, racconta la storia di dieci pescatori che vivono in Cornovalia, in un piccolo porto che si chiama Port Isaac e un giorno arriva improvvisamente un discografico da Londra che è quasi costretto dal suo capo a fargli firmare un contratto discografico. All'inizio non ci crede, poi invece ci crede, si innamora del posto e di tante altre cose che ci sono nel posto e riuscirà a fargli firmare veramente un contratto milionario, insomma è una storia vera che poi ha portato al successo questi pescatori, è una storia di buoni sentimenti, anche ricorda i film classici inglesi dove si parla di musica molto musicale perché questi pescatori cantano delle bellissime storie marinaresche, canzoni marinaresche. Cosa ti ha convinto di quest'opera? No, a noi piacciono molto le storie vere. Io prima come regista, perché ho fatto un film l'anno scorso che si chiama La Grande Guerra del Salento, un'altra storia vera, sono quasi contornato, mi propongono spessissimo storie vere, quindi anche questa è una bellissima storia vera e mi ha convinto per quello. Dietro a una fotografia in bianco e nero si racconta un mondo e questo insomma mi affascina sempre molto. Di Chris Foggin cos'altro sappiamo? Chris Foggin è un giovane regista inglese che ha fatto altre commedie, altri film commerciali, in questo in particolare ha voluto parlare di una storia anche di bei sentimenti. All'interno del film c'è anche una bella storia da parte, la storia di una ragazza sola con una bambina e che si innamorerà del protagonista, insomma ha voluto puntare il dito su anche buoni sentimenti, la famiglia, le storie d'amore. Che distribuzione sarà? Aura Film distribuisce indipendentemente in moltissime sale, siamo riusciti a trovare tante sale in tutta Italia puntando soprattutto su cittadine, non sulle multisale, un po' in tutta Italia prevalentemente al centro nord e poi seguiremo il film anche nei prossimi mesi perché noi ci teniamo comunque a partecipare a festival, a rassegno, cineforum e quindi lo terremo vivo per molti mesi fino a marzo, aprile dell'anno prossimo. Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo? Potete trovare su My Movies o altri siti di cinema tutte le sale oppure su Facebook di Aura Film trovate anche lì le sale aggiornate, quindi facebook.aurafilm. Il film Fisherman's Friends di Chris Foggin al cinema da giovedì 23 novembre 2023, un saluto e un ringraziamento a Marco Pollini di Aura Film che lo distribuisce. A presto! A presto, grazie a tutti!